Wesh ragazzi, fa troppo caldo, quindi video all'aperto, ma e scordate va la giacca, e mo appicciamo la bestiola Ringraziamento a BBQ Tor, attrezzatura da paura, e mo iniziamo a sporcare assieme, melanzana, gli facciamo un reticolato, questo vi servirà per la cottura e per far rientrare bene il sale L'immancabile sale, fatele riposare una mezz'ora, così inizieranno a perdere l'acqua, e giù sul barbecue, e adesso olietto profumato e laccatura per la carne Menta, grattatina d'aglio, immancabile olietto, e per la laccatura, sciroppo alle pere, questo l'abbiamo fatto noi, a 200 like ci fa morghi Rosmarino Zenzero fresco Arancia Levate le parti più nere, e scaviamo via la polpa, aggiungiamo l'olio profumato E il primo che fa una battuta, dice una medaglia La scottiamo da tutti e due i lati, e la spennelliamo tutta Righè, è favolosa, ce le voleva proprio